Qual è la prossima operazione? In questo caso sarà una strategia verde rialzista o rossa ribassista? Assolutamente una carta rossa, in questo caso non sono in accordo con l'amico Tony, in realtà potrebbero andare bene entrambe le strategie, nel senso che la mia potrebbe andare a target prima e poi attivarsi la sua, è sul Fuzzimib, quindi sull'indice italiano. Io penso che dove doveva arrivare in buona sostanza è arrivato, oggi non abbiamo avuto segnali di conferma sulla forza appunto di questo indice, sapete che io non ho una visione così costruttiva sull'indice quanto invece magari ce l'ho su alcuni titoli all'interno del paniere e di conseguenza il mio è un trade a ribasso sui valori del future, il livello è 27.050 come area di euro, ingresso, lo stop loss lo vado a posizionare a 27.220 punti quindi con circa meno di 200 punti di stop loss quindi abbastanza vicino, target price un pochettino più ampio a 26.730 punti. Ecco l'idea qui qual è? Che il Fuzzimib è arrivato su dei livelli importanti, secondo me una correzione delle borse in generale potrebbe starci, non mi aspetto chissà quale correzione però da appena sopra i 27.000 punti, sto parlando di contratto future scadenza dicembre, secondo me ci può stare tranquillamente in operazione leggermente in contro trend che possa portare a un buon rapporto di rischio rendimento quindi è un trade che mi piace molto.